Dopo lo stop da parte del TAR all'ampliamento della discarica a Tremonti sarà il termo valorizzatore del frullo a incenerire i rifiuti di una decina di comuni dell'Imolese, tra i quali quello della stessa Imola, insieme agli altri di Castel San Pietro, Medicina, Casal Fiumanese, Mordano, per citarne alcuni. Lo ha deciso la Giunta regionale sulla base di un principio di prossimità, ovvero la vicinanza dell'impianto di Granarolo rispetto ai territori interessati dal blocco di Imola, anche per non accrescere i costi di smaltimento. Per l'assessore regionale all'ambiente Paola Gazzolo, la capacità di trattamento del termo valorizzatore del frullo resta nel limite dei quantitativi massimi previsti e permette di garantire una efficace gestione della raccolta e dello smaltimento di rifiuti urbani, nonostante la chiusura temporanea dell'impianto Tremonti. Peraltro, aggiunge la Gazzolo, il termo valorizzatore di Granarolo garantiva già lo smaltimento di rifiuti trattati nell'impianto di Imola. Si tratta quindi, in questo caso, della conferma di un flusso esistente che subirà solo un leggero e temporaneo incremento. Quanto alla sentenza del TAR, aggiunge la Gazzolo, la regione lavora per valutare provvedimenti che consentano di dare attuazione al piano regionale della gestione dei rifiuti. All'attacco il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che riferendosi alla recente Carel Raggi Bonaccini sui rifiuti della capitale, dicono Dopo tanto straparlare di rifiuti che non sono arrivati e non arriveranno mai, oggi Bonaccini e la sua giunta fanno pagare ai cittadini di Bologna e Forlì, altra città chiamata a smaltire rifiuti di Imola, il prezzo della loro totale incompetenza certificata dalla sentenza del TAR. Ora, conclude il Movimento 5 Stelle, ci aspettiamo di vedere in strada, in prima fila per il blocco dei rifiuti, il sindaco Pd di Castenaso, che avendo creduto all'annuncio fake natalizio di Bonaccini sui rifiuti di Roma, preannunciava barricate stradali.